Abbiamo un sogno, Subbiano come Codogno. Questo il testo dello striscione, già ribattezzato per ovvi motivi della vergogna, apparso al comunale di Capolona dove domenica è andato in scena il derby del Basso Casentino tra Capolone e Subbiano, match particolarmente sentito per la vicinanza territoriale con i due comuni confinanti. Chiaro il riferimento al paese Lombardo che nel 2020 registrò il primo caso di coronavirus e successivamente numerosi morti per covid. Lo striscione, andato ben oltre gli sfottò della tradizione, è stato immediatamente fatto rimuovere dai carabinieri presenti sul posto. Immediata anche la presa di posizione da parte sia della società di casa il Capolona Quarata che dell'amministrazione di Capolona. La società Capolona Quarata, si legge in una nota del club, si dissocia per lo striscione sposto oggi prima del derby da alcuni pseudo tifosi che non hanno niente a che vedere con lo spirito calcistico e la sportività che ha sempre contraddistinto la società Capolona Quarata. Ci scusiamo con tutta la comunità subbianese. A queste parole di condanna hanno fatto eco quelle del sindaco di Capolona Mario Francesconi. Mi scuso con tutta la comunità di Subbiano per lo striscione che è stato esposto oggi prima del match tra Capolone e Subbiano, ha scritto il primo cittadino. Un gesto vergognoso che ha leso la dignità di una comunità intera, tirando in ballo un tema così attuale e delicato. Uno striscione che nulla centra con il tifo, con la sana rivalità sportiva. Un episodio deplorevole. Farò di tutto per risalire ai responsabili. Verranno poi presi anche i dovuti provvedimenti. Per la cronaca la partita si è poi chiusa sul punteggio di 1-0 per gli ospiti grazie al gol di Rubecchini che ha permesso al Subbiano di proseguire la propria corsa al primo posto in classifica.